Anche in Abruzzo stoppa la movida discoteche chiuse obbligo di mascherina anche all'aperto nei luoghi dove è facile l'assembramento. Subito dopo il delirio di Ferragosto il governo corre così ai ripari con un'ordinanza firmata dal ministro della salute Roberto Speranza che adotta un provvedimento restrittivo che non ammette deroghe con ordinanze regionali. Il costante aumento di nuovi positivi al covid e la preoccupante situazione di numerosi paesi europei alla base della decisione per non vanificare i sacrifici dei mesi passati e compromettere soprattutto la riapertura delle scuole prevista a settembre in totale sicurezza. Ecco dunque la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale, da ballo, discoteche, locali assimilati all'aperto o al chiuso. Il provvedimento introduce inoltre l'obbligo dalle 18 alle 6 di mascherina anche all'aperto negli spazi di pertinenza dei locali e dei luoghi aperti al pubblico e negli spazi pubblici ad esempio le piazze che per caratteristiche favoriscono gli assembramenti. Ovvie le proteste da parte dei titolari di strutture ricettive che fanno della musica il loro cavallo di battaglia. Fossacesia da qualche anno e capitale estiva proprio della Movida e adesso luci spente e casse in silenzio. Purtroppo adesso è finita la festa il governo avrà le sue buone ragioni per chiudere anche se penso sia inutile chiudere adesso e si poteva pensare prima di chiudere però si sapeva che si andava incontro a questi problemi. Come si sono comportati i dati giovani? Diciamo che si sono comportati abbastanza bene, noi con la sicurezza siamo riusciti a gestire al meglio la situazione quindi facendo mettere la mascherina rispettando le distanze anche se purtroppo è difficile che con quei ragazzi ci sta molto da combattere diciamo. Ne penso che andiamo a finire male qua bisogna lavorare e andare avanti se sapevamo così non scendevamo neanche paghiamo in bene. Noi siamo anziani e ci teniamo alla salute basta poi fate quello che vi pare. Sono favorevole è una cosa da da farsi in questo momento e dovevano farlo prima. I giovani come si stanno comportando? Certi sono molto responsabili, alcuni invece no. No non bastiamo più niente, tra un po' tutte le mascherine. Non si balla più? No, purtroppo. Bisogna moderarsi tutto qua, non esagerare perché praticamente ritorniamo al lockdown di quattro mesi fa. Cassa integrazione poi arriva, non arriva, rifacciamo la fame, un'altra volta. Bisogna sempre rispettare un po' le regole. Mi dispiace per i ragazzi, per i giovani però un po' di responsabilità c'è stata sinceramente. Però che dobbiamo dire? Pazienza, speriamo che passa tutto presto. Ma penso proprio che sia la cosa giusta. I giovani per me si sono comportati bene qua, nel mio locale. Poi fuori e anche qua fuori si sono comportati bene perché quello che gli dicevo facevano. Univano la mattina alle cinque dopo la movita, venivano qua, mangiavano i cornetti e poi andavano a casa con gli autobus oppure con i genitori. Locali da ballo con bar e ristoranti potranno invece continuare a svolgere regolarmente la loro attività. Servire pasti, preparare drink, seguendo però il protocollo previsto. Il governo ha annunciato sostegno economico alle attività che avranno ingenti perdite trovando delle poste di ristoro specifiche anche nel decreto legge di agosto. Tutto tranquillo al riguardo, cerchiamo di mantenere di più le distanze di sicurezza e riuscire a garantire un servizio più che altro sicuro per i clienti che frequentano i Lili, tutto lì. Le frequenze più o meno sono pressoché le stesse, solo che c'è stato un piccolo calo nell'ultimo periodo, ferragosto, qui 14, 15, 16 dovute. Penso che la gente abbia preferito più andare in montagna che direttamente al mare.